Operazione avvicinamento. È quella che il campionato di Serie D compie con il turno di domenica in vista della sfida tra le prime due della classifica in programma mercoledì prossimo sul campo del Trastevere. Che va detto, numeri alla mano, resterà in vetta anche in caso di una doppia sconfitta in questa giornata contro la Vulture in trasferta e successivamente nello scontro diretto in casa, ma rimescolerebbe le carte per la promozione in Lega Pro. Più realisticamente ci si concentra in altre operazioni di avvicinamento se non addirittura di sorpasso in classifica. La potrebbe compiere questa operazione il Gravina nella trasferta di Nocera. È la sfida più interessante per somma di punti della ventottesima giornata. C'è una sola lunghezza a dividere le due contendenti, ma ci sono condizioni psicofisiche diverse con le quali i campani e murgiani si presentano all'appuntamento. E va detto, proprio la squadra di De Leonardis sembra stare meglio dei rossoneri. Tre vittorie consecutive sono il biglietto da visita con il quale il Gravina proverà a spaventare e in caso di vittoria scavalcare in classifica la Nocerina. L'operazione avvicinamento, ma verso il traguardo salvezza, è quella che accomuna le tre formazioni foggiane del girone H. Serve una manciata di punti al Manfredonia, al quale però servirebbe un pizzico di serenità per lasciarsi alle spalle il momento negativo che sta attraversando. Non che la trasferta a Nardò sia tra le più agevoli, anzi, proprio la formazione neretina evoca uno dei tonfi più fragorosi di questa stagione della squadra allenata da Catalano. Non mancherebbe molto anche al Sansevero, che sul campo del Picerno cerca una conferma del buon momento e punti per avvicinare il traguardo salvezza. Una sorta di controprova dopo il successo nel derby contro il Manfredonia è quella che deve superare la Pricena. Il polverone sollevato dopo l'annuncio di un possibile ritiro della squadra è stato allontanato con i tre punti di lunedì. Un bis di successi sul campo, domenica di fronte Ciel Potenza, rafforzerebbe la tesi che i downi la Serie D non hanno nessuna intenzione di lasciarla.